Non si è chiusa, la conferenza di servizi è rimasta appesa a un filo. Quello che è accaduto lunedì 30 gennaio in Regione è qualcosa di inaudito, mai era accaduto fino ad allora una cosa del genere. Praticamente per la prima volta tutti i pareri degli enti preposti erano sfavorevoli al rinvio, al rinnovo dell'autorizzazione ai scientifici Vecere, eppure il funzionario si è inventato di tutto per tenerle in piedi. Ha cercato in ogni modo che la conferenza si concludesse o in maniera positiva o perlomeno a questo punto pensiamo che non si è conclusa volutamente per magari essere impugnata dalla proprietà per continuare ad operare. Ad un certo punto il RUP, il responsabile del procedimento, il dirigente della Regione, era in grave difficoltà e ha chiamato il suo dirigente all'Aquila, collega tra l'altro del dottor De Vincentis. Il suo collega dirigente è partito dall'Aquila e è venuto fino a Pescara per dare consigli, consigli durati un minuto e mezzo circa, al RUP. Noi ci chiediamo per quale ragione i due dirigenti non si sono potuti semplicemente telefonare o inviarsi una mail o un fax o, come si fa tra colleghi, cercare di capire come si potesse risolvere questa procedura che in qualche modo sembrava ingabbiata. E' una domanda che ci poniamo tutti quanti noi che eravamo presenti lì alla conferenza di servizi, è una domanda che poniamo alla Regione, è una domanda che poniamo ai cittadini di questo Paese. Che cosa vi aspettate a breve? Noi intraprenderemo sicuramente delle azioni legali nei confronti della Regione, perché, ripeto, si doveva concludere per legge, si doveva chiudere la conferenza di servizi e, visti tutti i pareri negativi, probabilmente questa è la grande difficoltà della Regione, bisognava chiudere la procedura in maniera negativa nei confronti delle autorizzazioni ai sensiifici vecieri. Non vogliamo che questa mancata chiusura, quindi un atto illegale, se vogliamo, dal punto di vista amministrativo, serva proprio per dare qualche chance che l'impresa non aveva più in questi termini. Anche l'Arta ne ha combinato un'altra delle sue, perché sì, ha fatto una relazione, diciamo, impeccabile dal punto di vista tecnico, ha messo in luce tutte le incongruenze del progetto dei sensiifici vecieri, ha messo in luce gli sforamenti, ha messo in luce tutta una serie di problematiche che la proprietà doveva risolvere per avere un'autorizzazione. Però alla fine non si è espressa, dice io non mi posso esprimere perché non sei in regola. Se non sei in regola vuol dire che ti devi esprimere in maniera negativa. È stato un escamotage anche quello per non mettersi in difficoltà, probabilmente nei confronti della proprietà.